Ciao a tutti e ciao a tutte. Oggi vi parlo del nuovo ciclo di serate del giovedì che si estende tra aprile e il mese di maggio e che si intitola Umani 2.0. Cosa vuol dire essere umani oggi? C'è spazio ancora per l'umanità? Che ne sarà del nostro destino? Cosa vuol dire essere umani nella modernità? Quali sono le grandi sfide che ci aspettano al confine tra l'essenza più profonda dell'essere in carne e ossa, in cuore, sangue, volti, parole, pensieri, emozioni e invece oggetti di progresso, tecnologia, rivoluzioni tecnologiche e persino forse ibridazioni con l'intelligenza artificiali? C'è ancora spazio per qualcosa che abbia a che fare con il cuore, con l'irriducibile umanità, la troppa umanità, come avrebbe detto Nietzsche? Possiamo immaginare che la grande transizione che sta accadendo non sia soltanto un'ulteriore meccanizzazione di quelli che sono i processi della nostra vita, ma invece possa essere volta anche allo sviluppo più profondo della nostra essenza. C'è qualcosa di unico, irriducibile, che ci fa essere umani al di là di tutto? E quanto abbiamo bisogno di questo per pensare di poter proseguire nelle nostre vite e anche nella vita della specie stessa a cui noi apparteniamo? Sono tantissimi gli interrogativi che si profilano in questo periodo, tantissime le paure, tantissimi anche gli entusiasmi e le persone si dividono tra chi inneggia alle magnifiche sorti e progressive di quella che sarà la futuribile tecnologia che ci porterà nel metaverso, che ci porterà a avere integrazioni di funzionalità artificiali dentro di noi e c'è chi invece è così angosciato da tutto questo. In fondo, oltre a tutte le incertezze che stiamo vivendo, anche questa del transumanesimo e del progresso che ci attende anche in ambito neurofisiologico diventa un'ulteriore fonte di paura e di incertezza per molti o di esaltazione per altri. Possiamo mantenere una centratura? Possiamo mantenere un equilibrio? E soprattutto potremmo trovare una ricomposizione di ciò che è la natura dell'umano con ciò che invece è la tecnologia oltre l'umano. Bene, forse le tecnologie con cui noi abbiamo a che fare oggi sono soltanto l'ombra, in qualche modo la copia di tecnologie interiori che da sempre, dalla notte dei tempi, tutte le culture, in tutte le latitudini, in tutte le civiltà, sono state praticate come tecnologie dell'essenza e forse è proprio questo volo di coscienza che possiamo praticare. Riunificare saperi della natura, saperi umanistici e saperi scientifici al crocevia dell'umanità. Non è soltanto qualcosa che ha a che fare con lo studio e con la ricerca, ma è qualcosa che ha a che fare con la quotidianità delle nostre vite, perché noi viviamo già in fondo ibridati con le tecnologie e non abbiamo forse la piena coscienza di che cosa questo significa rispetto alla nostra salute emotiva, mentale e persino fisica. Allora, tre serate per conoscere, approfondire i temi del transumanesimo, dell'intelligenza artificiale, delle frontiere della neuroplasticità, per eventualmente anche apprendere quelle che possono essere le strade per mantenere la centratura, l'equilibrio, fronteggiare le paure e recuperare la profondità di un'etica umana e lavorare, imparare o proseguire a lavorare con le tecnologie interiori, che sono quelle della meditazione, della preghiera, della contemplazione, della bellezza, del raccoglimento interiore, persino dell'estasi, della mistica, degli stati modificati di coscienza, della trance, dell'immaginazione, dell'ipnosi, del placebo, e cioè il grande potere che noi racchiudiamo dentro di noi, in quel cervello che è nella nostra testa, nel nostro cuore, nel nostro corpo, di cui in realtà finora non sappiamo che usare una piccolissima parte. Allora tre serate per recuperare l'essenza dell'umanità, il potenziale dell'umano che è ben di più di quello a cui finora siamo stati abituati. A presto, vi aspetto con Umani 2.0.